Ottavore di Roma, Ottavore di Roma annuncia di aver preso un magazzino non in uso, che è da ristrutturare, da svuotare, dove farà parecchie cose, ha annunciato. Ascoltiamo che cosa dovrà fare in questo magazzino, a voi filmato. Raga, stavolta facciamo rumore, rumore, rumore. Queste sono le genialate mie, ero entrato al centro commerciale, guarda un po' che l'ho lasciato nel portacenere della macchina. E porcazzo, mi ce fregate. La mattina vi faccio vibra tutti quanti, porca la puttana, ho preso un magazzino di 300 metri, ci siamo dentro, un'americanata di queste, proprio folli, giusto io ci potevo arrivare, questa cosa che mettiamo tutti a silenziare. Facciamo noleggio piccoli e grandi segmenti, medi, piccoli e grandi segmenti. Facciamo la vendita, only smart, fratellino. Officina, riparazioni lampo, piccole riparazioni lampo, ragazzi. Lavaggio, low cost perché abbiamo la buca con lo scavo per l'acqua. Frate, udite, dalle 6 alle 10 di sera, dalle 6, quindi dalle 6 alle 22, facciamo shortini per tutti a un euro e apericena. E ci organizzeremo anche per avere qualche permesso notturno della questura. Ragazzi, facciamo bang bang stavolta, dopo vi posto il video del magazzino. Calcolate che va ripulito, svuotato e ristrutturato completamente e voi mi seguirete passo passo.